Non vuol sentir parlare delle vicende extracalcistiche il difensore del Foggia Filippo Costa che durante la conferenza stampa infrasettimanale ha rivolto un pensiero al presidente canonico. Queste vicende non ci riguardano, posso solo dire che tutto il gruppo squadra è vicino al presidente e sono sicuro che ne uscirà a testa alta e noi abbiamo pensato a preparare la partita di Viterbo. Le attenzioni sono tutte alla sfida contro la Viterbese, una gara che nasconde insidie e la sfida con la Gelbison deve fare aprire gli occhi. Sicuramente tutte le partite sono insidiose, basti pensare alla Gelbison che magari sulla carta era più facile ed è andata male e invece col crotone che tutti ci davano già per spacciati hai vinto la partita. Ogni partita ha una storia a sé, col mister la prepareremo bene e andremo a dare il massimo. Costa ha parlato anche dell'avvio di stagione incerto, ispirandosi però alle annate passate trova uno spiraglio di positività. Non è la prima volta che mi capita in carriera, è già successo altre annate che ero partito insomma così così, poi però sono finite bene. Spero sia di buon augurio anche per questa annata, noi pensiamo solo a lavorare, solo il lavoro può darti dei risultati. Non che prima non lavorassimo, però dobbiamo continuare a lavorare su questa strada e ci togliermo delle soddisfazioni.